Buongiorno amici, ragazzi della Soul Society Oggi live un po' particolare, un po' a caso Invece che essere una live serale e una live pomeridiana In modo tale che stasera, per chi ci guarda su Twitch E la scorsa settimana per chi guarderà questa live su Youtube E praticamente parleremo di Deadpool e Wolverine Assieme agli amici di Storia di Fumetti e Cinema e il buon Barbateo Quindi, detto questo, cambiamo layout, rimettiamoci qua E dobbiamo iniziare con il volume 19 Alla fine del volume 18 avevamo lasciato tutto il baraccone Con lei che sparava un attacco devastante contro Soifong E si chiudeva il volume così Quindi, iniziamo il volume 159 C'è il volume, scusate, 19, capitolo 159 La ragione per cui non ti ho mostrato mai Questa tecnica La comprendi? Questo Non è Perché questa tecnica è troppo pericolosa Questo non è possibile! E' ancora troppo presto per te Per usare questa tecnica Anchi Annullato Usando un ammontare di energia Pari all'arte demoniaca dell'avversario Per vanificargli l'attacco Ah, usando un ammontare di energia Pari all'arte demoniaca dell'avversario Per vanificargli l'attacco Contro la velocità del mio pugno E la potenza della mia arte demoniaca Lo ha neutralizzato in una falrazione di secondo Proprio così Così facilmente Madonna come... Come è adattata male Cioè Può vanificargli l'attacco Usando un ammontare di energia Pari all'arte demoniaca dell'avversario E ci sta Lo ha neutralizzato in una frazione di secondo Nonostante la velocità del mio pugno E la potenza della mia arte Della mia arte demoniaca Non contro Nonostante Era perfetto il nonostante qua Come può essere? Io sono più forte di te Io dovrei Averti sorpassata da un pezzo Dovresti essere diventata più debole Nei cento anni che sono passati E io dovrei essere diventata più forte Perché sta succedendo questo? Perché sei ancora al di sopra di me? Come puoi ancora sovrastarmi così? E rispondimi Yoruichi Yoruichi L'hai vista Shaolin? Lei è la principessa del Tenshi Eisoban Lei diventerà presto comandante della milizia esecutiva Diventa il suo braccio destro E metti in gioco la tua vita per servirla Va bene Shaolin? Il nostro primo incontro Era come guardare una dea Generazione dopo generazione Tutti i membri della famiglia di bassa classe Non sa che abbonata plus in palestra Generazione dopo generazione Tutti i membri della famiglia di bassa classe Fong Sono stati sempre soldati della milizia esecutiva Tutti destinati a vivere per Per E dare la loro vita alla milizia Come cazzo è scritto? Tutti destinati a vivere per la milizia E dare la loro vita per essa Cioè così te la giochi Non per e dare Come cazzo è scritto? Solo la forza del singolo determina il suo valore Quelli che non riuscivano ad unirsi alla milizia Erano rinnegati Senza esitazione Io sono della nonna generazione Come la più giovane di sei fratelli Anche io mi sono unita alla milizia Quando mi sono unita Ho ben abbandonato il nome di Fong Shaolin E ho ereditato il nome che la mia bisnonna usava Soifong La milizia esecutiva è il primo ramo Della divisione squadra spia E' reputata la più importante Dei cinque rami della divisione Le responsabilità includono Punire ed assassinare ex camerati Che hanno infranto la legge E agire come ricognitore Nelle battaglie contro gli Hollow Dei miei cinque fratelli più anziani Esatto Dei miei cinque fratelli più anziani Due morirono nella loro prima missione Poi altri due nella seconda Poi nella sesta missione L'ultimo Morì anche lui Mi sentivo in qualche modo triste Ma più di questo Mi vergognavo della loro incompetenza Dall'altro lato Lei rimaneva senza pari Nel combattimento di mischia E guidava la milizia Agendo come il Tenshe Soban Della famiglia Shihoin Ventiduesima capo della casata E prima donna D'aver mai occupato quella posizione Così nobile Così bella E così terribilmente forte Lei era tutto ciò Che avrei voluto essere io Io l'ammiravo fortemente No Quel sentimento andava oltre L'ammirazione Io la idola travo Ah ok perfetto Soifon Al suo servizio Sua eccellenza Oh Eccoti Hai sentito la novità? Sì Io Soifon Darò il mio sangue La mia anima Per proteggere l'incolumità Di sua eccellenza Sette anni dopo Essermi unita alla milizia Fui trasferita Nella milizia Delle guardie personali Del comandante Non chiamarmi Sua eccellenza È troppo formale Puoi usare qualcosa di più semplice Come Yorwichi Sano Qualcosa del genere Que Questo Non posso farlo Non eserrei mai Rivolgermi a sua eccellenza Così direttamente Ah Allora va bene Se mi rivolgo a lei Come Yorwichi Sama Ah Sei così testarda Vabbè Chiamami come vuoi Ti ho fatto spostare qui Perché hai del potenziale Chiamami In qualsiasi modo vuoi Non vedo l'ora di vedere Quello che sai fare Soifon Sì Io non ero timide Persa Neanche un po' Ero felice Anche nel calore Della battaglia Tutto quello che sentivo Era felicità Morirò per lei Era questo Ciò che mi giuravo In mente Ancora E ancora Momento dove Facciamo vedere Il loro essere Compagne E compagnone Poi improvvisamente Senza dire addio Lei sparì proprio sotto I miei occhi Il giorno dopo Fu emesso Un mandato di arresto Per aver evitato L'esiliato Uraharakiske Ed essersi nascosta Dopo che il suddetto Atto è stato scoperto Per le suddette ragioni Per le suddette ragioni Shihouin Ioroichi È pertanto Sollevata Permanentemente Dall'incarico Di comandante Della divisione squadra Spia E della milizia esecutiva Era così Insopportabile Dopo averti amata Ed idolatrata Come un dio Fui tradita Ero così Arrabbiata Con te Ti ho odiata Ti ho maledetta Ho giurato Di arrestarti Un giorno Con le mie stesse mani E di sorpassarti Ho lottato Sono diventata più forte Io non ti perdonerò mai Ioroichi Mai Per aver tradito Il mio rispetto La mia fiducia Io non ti perdonerò mai Tra l'altro Bello come passi Da chiamarla Ioroichi Sama A Ioroichi Il fatto di togliere Il Sama Ma anche lo stesso San E chiamarla Solo per nome Ioroichi Cioè Ah Ma Più che essere Cioè Soifon Non mi dà Cioè qua Non mi dà L'impressione Della Della protagonista Del Girls Love Cioè Per lei È letteralmente Idolatria Cioè Non Come rimane adesso È Una sua superiore Una divinità Un essere Assolutamente Irraggiungibile Che la tratta Come Una persona Non dico Suo pari Ma poco ci manca Quindi Non è amore È una figura È Un sentimento Realmente Di idolatria E qua Momento In cui Ioroichi Pianta Il suo pugno A Pochi centimetri Dalla faccia Di Soifon Perché 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 Non mi avete portato Con voi Ioroichi Sama Ok Ok Quindi Come tutte Le situazioni Momento In cui Lei fa Realmente Vedere Cosa prova Per Ioroichi Il rispetto L'affetto E Più Rispetto Che l'affetto Le sta Dimostrando Quello che Le sta scaricando Tutto quello che è stato Il suo disprezzo Per anni Per un secolo Perché Ioroichi È scappata Perché Ioroichi È andata via Da quello che è il suo ruolo Perché Ioroichi E di cui si fidava È sparita Per un secolo Non sappiamo perché Almeno per ora Però è sparita Ecco Questa è una di quelle Storyline Per cui spero Che venga raccontato In futuro Perché È successo Perché È un bel seme Da gettare nella trama Cioè Noi sappiamo Che Uraara Kisuke È praticamente Un personaggio Che faceva parte Della Della Soul Society E vabbè Chiaro Io sto parlando Del momento Al volume 19 Asrur E È un elemento Di trama Che Cioè Uraara È un rinnegato È letteralmente Un rinnegato Della Soul Society Ioroichi Lo è altrettanto Ma è stata Traviata Da Uraara E È andata via Della Soul Society Quindi È interessante Scoprire Questa cosa Però in questa tavola Fondamentalmente Non c'è niente Bravo Time Cioè Fondamentalmente In questa tavola Non c'è niente Di Eclatante Che uno guardi Dica No Vabbè Cioè Guardiamo delle tavole Esagerate Eclatanti Ok Torniamo Wow Quello di poco fa Era un qualcosa Come un fulmine Ci avrebbe colpiti Di sicuro Se non avessimo alzato Se avessimo alzato Le nostre spade Quando è successo Idiota Non era la caduta Di un fulmine Normale Era un'arte demoniaca Era un attacco mirato Non c'era Alcuna possibilità Che potesse arrivare qui Dopo tutto questo tempo Non si è migliorato Neanche un po' Non conosci ancora niente Di arti demoniache Oh Oh Stai zitto Non ero interessato Alchidosin Alchidosin Dall'inizio Ce l'ho sul computer Vecchie 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 E aiutami a dire Vecchie scan Sì Mi è stato detto Che in giro online Ci sono altre scan Che Sono quelle Di panini Ma Io Non voglio Mettermi qua A leggere Il prodotto di panini Io Mi metto qua Anche perché Il prodotto di panini Al momento Non ce l'ho a casa Ma Più avanti Potrebbe essere Tranquillamente Un'opera che Almeno per come Mi sta piacendo Che Comprerò Metterò in libreria E magari Mi tornerò a rileggere Con una traduzione Fatta come si deve Quindi Senza Grosso Grossi problemi Esatto Esatto Ma come abbiamo avuto tutti Nei primi 2000 Praticamente C'era la malora Lo sappiamo benissimo Cioè E' inutile che ci nascondiamo Detro un dito E' sempre stato così Negli anni 2000 Diversamente da te Mia madre Non mi ha fatto Nascere Da so fare tutto Io non ero Un so fare tutto Fin dall'inizio Ma invece di Concentrarsi Solo su un'abilità Saper fare un po' Di tutto Da una maggiore possibilità Di diventare tenente Non è detto Parliamone Dato che il mio obiettivo Era di diventare tenente Ho deciso di essere Non so fare tutto Tutto qui Non sembri molto felice Adesso Idiota Quando un uomo Viene promosso Così in fretta L'unica cosa Che prova È felicità Già Giusto Lo fai solo Per tua mamma Idiota Chi vorrebbe lottare Per diventare tenente Per una vecchia strega Ehi Bassan Tu Ah E' finito il sacchè Cosa L'hai finito tutto Di nuovo Tu bevi troppo Nei tuoi turni Ehi Ehi E' normale Se ogni tanto Sforiamo La durata Di bevuta Non venirmi A dire Che E' normale E perché Bevi troppo Non parlare Come se fosse Evaporato Oh beh Ricominciamo Allora Sì Sasso Carta Formici Ancora 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 E vai Ho vinto Mi prendo il punto Più in alto Ah Ancora Sei meschino Prenditela con te stesso Per essere così Scarso Sasso Carte Formici Mi stavo chiedendo Con chi sta combattendo Il capitano Cucicchi E il Sokyoku Non riconosco Il suo potere Spirituale Probabilmente Ichigo Così è Dell'undicesima Brigata Perché qualcuno Della nostra Brigata Dovrebbe combattere Contro il capitano Cucicchi È un Ryoka Un Ryoka Ho già combattuto Con lui Ecco perché lo so Capisco Un Ryoka È davvero forte Quey Ryoka Ma perché Quell Apostrofo Ryoka Ma perché Ma perché Ma perché Quel Ryoka Ma non ha parole Bello Sarebbe bello Se potessi combattere Con lui una volta Ibasan Dietro di te Si è ancora Uno dei nostri Sei pronti Ibasan È ora di riprendere Il nostro combattimento Sì Conosci le regole Chi perde Va a prendere il sake E chi vince Si riposa Mentre aspetta Se ti trattieni Ti uccido Ah Momento in cui Si colpiscono E accadono a terra Tutte e due No Una montagna Così nasce Così a caso E i due Che combattono A pieno Ah Interessante Sembra che Sei capace No 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 Ma una Consecuzio Temporum Ma la vogliamo Beccare Ma dai Sembra che tu sia Capace di Paradroneggiare Lo sciupo Lo sciumpo Completamente Comunque Te la stai Prendendo Comoda Vero Stavi Analizzando La mia forza Con disinvoltura Stavi Analizzando La mia forza Con disinvoltura È davvero Una buona idea Fare solo questo Non hai intenzione Di attaccarmi Non sei Stato in grado Di farmi Neanche Un graffio Sicuro Potrebbe essere Che questo è Il massimo Che riesci a fare Sbrigati E usa Dal bankai Batti Lei Poco fa Ho detto Che avevo Intenzione Di uccidermi E poi Di giustiziare Rukia Con le tue Stesse mani Allora 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 Non mi piace Io ci metterò Tutto me stesso Per sconfiggerti Io ti combatterò Finché non mi sarà Rimasta Più forza A giustiziare E tua sorella Con le tue Stesse mani Che scherzo Del cazzo Non importa Quali siano Le tue ragioni Comunque Non dire Una cosa Del genere Di fronte A Rukia Un'altra volta Usa Il tuo Bankai Io lo distruggerò Poi ti porterò Da Rukia E ti farò Piangere Mentre ti scusi Con lei Che insulto Ridicolo Marmocchio Non importa Cosa tu dica Non cambierò idea Né sul Destino di Rukia Né sul tuo Vuoi che io Usi il Bankai Sta al tuo posto Marmocchio Sei di mille anni In anticipo Per diventare Meritevole Abbastanza Da morire Per mano Del mio Bankai Disperditi Sembonzacora Bella Questa tavola Bella Con tutta la La distorsione E le Le spade Le lame Che stanno raggiungendo Ichigo Colui che guarda E le vede Chiaramente Tutte Bam E si chiude Così Allora Questo non lo voglio vedere Com'è In In giapponese Ma più che altro Lo voglio vedere Com'è Nelle tavole a colori Lasciamo perdere Qua I due Che si scontano E chi vince Vabbè Allora Bello Col viola E l'ombra In nero Bam Cubo Secondo me Capace Di un minimalismo Unico Sì Assolutamente Ma basta Poco Guarda che Tavola Cinematografica Cubo Che fa Avanzare Le lame Verso Ichigo Ichigo Che si guarda Intorno E poi Guarda Fisso Verso E cucichi Byakuya E poi Bam Slash Detonata Con Byakuya Che guarda Come dire Che cazzo è successo Cosa ho appena visto E lascia il segno Perché crea una Spaccatura enorme Uuu Che cos'era Quel lampo di luce Era quella L'abilità Della tua Zampakuto Kurosaki Ichigo Sì Nell'istante Del fendente Assorbe La mia Energia Spirituale E la rilascia Altamente Condessata Dalla punta Della lama Ingigantendo L'attacco Del fendente E poi Esplode E questo Il potere Di zanghezzo Non sono mai Stato in grado Di effettuare Un colpo mirato Prima Fino ad oggi Io Non ho mai Neanche saputo Come farlo Venire fuori Urarasano Una volta Mi ha detto L'unica cosa Che io posso Insegnarti E la preparazione Io non capivo Cosa intendesse Finchè non mi sono Allenato Con zanghezzo L'unica persona Che potesse Dirmi qualcosa Riguardo a zanghezzo Era zanghezzo Stesso Così Sei finalmente Capace Di farlo A tuo piacimento Allora È ora Di dirglielo Ichigo Dato che Sapere O non sapere Il suo nome Fa una grossa Differenza Nella risultante Forza Dell'attacco Ricordatelo Ricordatelo bene Ichigo Il nome di Quell'attacco È Gensuga Tensho Te lo dirò Ancora Kuchikibia Combatti con il tuo Bankai Io sicuramente Ti sconfiggerò Colpire il cielo Gensuga Ok Zanna Gensuga Ok Tensho Ok Zanna di luna Che Getsuga Zanna di luna Tensho Colpire il cielo Ok Dal momento Che desideri Fortemente Così fortemente Il mio Bankai Guardalo Con i tuoi stessi Occhi E ricordalo Bene Ha lasciato Cadere La sua spada Non ti preoccupare Non te ne Pentierai Prima che Tu possa fare Qualsiasi cosa Oh Scusate Sarei già Stato Certamente Ridotto In pollo E resti I miei occhi Ban Kai Senbonzakura Kageyoshi Ok Senbonzakura Sono i millipetri Di ciliegio Kageyoshi Ok Bello Il momento In cui le lame Partono Ma Ichigo Inizia a mennare Forte Forte Bam Poi va in cielo Ingenuo La forza La tua zanpacto È grande Comunque È impossibile Schivare L'attacco Di senbonzakura Usando una tecnica Così lenta Cazzo Pensavo di farcela Ma suppongo Di no È logico È logico Che Usando solo lo shikai È impossibile Battere un bankai Ti ho sottovalutato Del tutto Fai attenzione A come scegli Le tue parole Marmocchio Parli come se Avessi acquisito Il bankai Già Era esattamente Ciò che Sotto intendevo Kuchiki Biakia Ah Momento in cui Gli dice Ok Adesso Ti faccio Vedere Quello che è Il mio Bankai Addirittura Colored Ma color ufficiale O color unofficial Scusate Vediamo un attimo Se è color Ufficio Sì Sì Sono esattamente Le stesse tavole Bello 162 Completamente a colori Bello Ciao Sabax Che cosa hai detto? Rispondi con una domanda? So bene Che hai sentito Non mi credi Vero? Perciò non importa Se lo ripeto Una seconda Una terza volta Dato che ti rifiuti Di credere Alle mie parole Che ne dici Di credere Ai tuoi stessi occhi Kuchiki Biakia Guarda Attentamente Questo è il mio Bankai Ah Ok Il Bankai Che Si genera Da una luce Impossibile Solo gli Shinigami Più forti Possono usarli È la forma finale Di un Zanpacto Anche fra le nobili Fra le quattro nobili famiglie Che hanno membri Eccezionalmente talentuosi Sono una persona Fra le varie generazioni Capace di arrivare Al Bankai Tutti quelli Che conseguono il Bankai Hanno un ruolo Rilevante Nella storia Sol Society È questo il significato Del Bankai Ma che c'entra lui Lui è diventato uno Shinigami Assorbendo i poteri di Rukia E non solo Non è un nobile Non è neanche un vero Shinigami Allora perché parla di Bankai Con disinvoltura E perché emette Un potere spirituale Così immenso La sua forza È quasi A livello del Bankai Bah Meraviglia Che scena Che scena Di attacco così Bah Devasto Uuuu Bella Bella Con questi mulinelli Con le due energie A confronto Figo 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 Come Come Bankai Allora Vabbè Per ora è solo Mutazione Per ora È sempre stata Una mutazione Ciao Wolfhard Cerbero Sì sì Giusto in tempo Ah Bella Bella Messa in scena Bello Sto manche Tensa Zanghez Cos'è quella cosa? Catene del cielo Che colpiscono la luna Zanghez Colpire la luna Ok Tensa Ok Catene del cielo Perfetto Quell'oggetto Così Così piccolo È il suo Bankai Non è solo La normale Forma Della sua Zampakto Non rilasciata Capisco Con l'esecuzione Del Bankai Sembra che tu Ti diverta davvero A calpestare Il nostro orgoglio Allora Dovrò Incidere Sul tuo corpo La punizione Per aver Offeso Il nostro Orgoglio Tak Proprio L'arrivi in faccia Bam Questa cosa Dell'orgoglio Ha qualcosa Che fare Con l'esecuzione Di Rukia Se così Allora Lo calpesterò Proprio Come hai detto tu Dato che È proprio Per questo motivo Che ho ottenuto Il Bankai Bella Scena Cazzuta Bella 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 Scena Cazzuta Bella In un istante È sparito Dalla mia Vista In un attimo Non ho neanche Avuto il tempo Di reagire Com'è possibile Tu Perché hai tolto La tua mano Dal mio collo Era per dimostrare La tua sicurezza L'arroganza E spesso La rvine Dell'aspirante Vincitore Te lo dirò Ancora una volta Quella cosa Che stai impugnando Non può Essere un Bankai È impossibile Per qualcosa Di così piccolo Essere un Bankai È impossibile Per un semplice Ryoka Ottenere il Bankai Te ne pentirai Dopo il mio prossimo Attacco Ti pentirai Di non avermi tagliato La gola Quando ne hai avuto L'opportunità I miracoli Accadono una sola volta Non contare Di averne un altro Marmocchio Ah Bella Tra l'altro La spada Cioè Se uno guarda Il Il Paramani Adesso non mi viene lo Zuba Praticamente Ha Il Il kanji del Ban Cioè Il kanji del Man Del Mariki Cioè praticamente È il kanji Della svastica Il kanji Del Del sole Del sole buddista Bah Scontro E qua Ichigo Che Evita Easy Beasy E poi Arriva Arriva Evita un attacco Arriva da sotto E Bam E la parata Arriva così Cattiva Bella come scena Cioè Lui attacca E arrivano le folate Delle lame Della Sembonzacola Ah E protegge Cucichi Perfetto Eh Che significa Quanta velocità Sembonzacola Non riesce a stargli dietro E Anche le immagini residue A me Adesso Cosa c'è Troppo veloce Per te Lo sai che posso andare Anche più veloce Non essere Troppo presuntuoso Marmocchio Ha aumentato La sua velocità Usando le mie mani Per controllarla Posso aumentare La velocità Di tre volte Non c'è niente Che non possa raggiungere Preso Truc 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 Scena tipo Alla Edward Mani Di forbice Anzi Alla Robin Hood In calzamaglia Cioè La scena Dove Will Rossella O meglio Il gioco In lingua originale Era Will Scarlet O Ara Perché il nome originale Del personaggio È Will Scarlet E poi Il nome originale Di Rossella O Ara È Scarlet O Ara E quindi giocava Con Will Scarlet O Ara Impossibile Le hai respinte tutte Prima hai detto Che i miracoli Accadono Solo una volta Allora Come lo chiami Questo adesso Zash Cioè Addirittura Byakuya Che ferma L'attacco di lama Con la sua mano Ah Capisco Prendi tutto il potere Del bankai E lo comprimi Tutto In una piccola Forma condensata Poi usi Il potere Del bankai Per eseguire Un combattimento A di per velocità È questo Il potere Del tuo bankai Molto bene Allora Questo tuo potere Dovrò Zradicarlo Ah Momento Di Schiaffare Sponanza Però Devo dire Devo dire Che Il Cioè Sembra un volume Anzi è un volume Molto veloce Perché è pieno Di tavole vuote Tavole mute Fino adesso Quindi È un volume È un volume Dove Boh Ma se riesco a raggiungere L'ora di lettura Per parlare di sto Di sto volume Oro colato Cioè Un'ora Togliendo tutta la parte iniziale Intendo questo Però 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 Andiamo avanti Qua Che cos'è Questo enorme potere Spirituale Più ci avviciniamo Alla cima Più diventa forte È davvero Il potere spirituale Di Ichigo Ma Sono confuso Come te Ecco la cima Sono dall'altro lato Di questa foresta bianca Quella che Nell'anime era Marroncino Scuro O chiaro Tuttavia Non vedo nessuno Penso di sapere Non importa Quanto forte Se è il potere Spirituale L'odore Rimane uguale Quello È sicuramente Quello Saki Kun Strano Il potere Spirituale Di Kukiki Non c'è Che sia già Stata giustiziata Quella ragazza È già Fuggita Kusajishi Yachiru Se Kukiki Non è qui Perché Ichigo Sta ancora Combattendo Non è così Semplice Questa gente Sicuramente Beh Incolperanno Kukiki San Per questo Per aiutare Davvero Kukiki San Tutte le minacce Devono essere eliminate Idee come Giustiziare Kukiki San Devono essere Cancellate Prima che Tutto questo Finisca davvero È per questo Che Kurosaki Sta combattendo È Molto probabilmente Mettendo a repentaglio La sua vita Per questo Voi siete Tutti pazzi Non è vero? Cosa significa Kukiki Kukiki Rukia Per voi Non è solo Un'amica È davvero Necessario Spingersi Fino a questo Punto Solo Per un'amica Certo Che lo è Perché Lei è Lei non è solo Un'amica Per Kurosaki Kun Kukiki San È una persona Molto Importante Inoue San Perché Kukiki San È La persona Che ha cambiato La sua Vita Ah Momento Di scontro Lasciamo Un po' Di sangue In giro E Byakuya Con un'intensità Spaventosa Fa scappare Ichigo Perché Qua Non è lui Che tenta L'attacco O che Fa allontanare Byakuya Cioè Sente qualcosa Ed è lui Che si allontana Osserva attentamente Kurosaki Ichigo È questa La forma Che rinuncia A tutte le difese E si concentra Esclusivamente Sul totale Annientamento Del nemico Questa è La vera Forma Di Senbonzakura Senche Senbonzakura Qua sembra Realmente Un cimitero Qua La Senbonzakura Sembra Un cimitero Bello Bello Come scena Non ti preoccupare Lama bianca Lama bianca Lama nera Ci sta Biakia È la notte bianca Ci sta Ci sta tutto Dopo Dopo ci guardiamo Wow Cos'era Quello Cos'è successo Forse dovremmo Andarcene da qui Mino e San Anche se rimaniamo qui Non possiamo davvero Fare niente Grazie Shitakun Ma Mi dispiace Voglio stare qui Lei sa Che se prova Ad aiutarlo Sarà solo D'intralcio In più Anche se potesse Aiutarlo Kurosaki Non vorrebbe Che lei lo facesse Lei questo lo sa Ma sta anche Stringendosi il corpo Come se tentasse Di fermarlo Dal farlo intervenire Ino e San Aspetta Pregando che tu ti salvi Fiduciosa Che tu ritorni Non perdere Kurosaki Fiduciosa che tu ritorni Non perdere Kurosaki Se perdi Non ti perdonerò mai Vinci Kurosaki Vinci Andiamo a vederci La colori Visto come avete fatto presente Che a colori Potrebbe esserci Comprensibile Il motivo Del Ok Qua è il momento Dove Lui Para L'attacco Poi Andiamo avanti Con Gli alberi La spiegazione Ok Lui che tiene stretta La lama Con la mano E poi Strappa Ok Poi Momento di attrazione Della lama Bello Azzurro e bianco Lama bianca Ok 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 Andiamo a bianca E la maniera Ah no Ok Qua Ah no Pagina dopo Qua Bella Bella come Messa in scena Molto Bella Allora Se proprio il fatto Che Ichigo Prova a liberare La katana Da Biakui Ma Biakui Alla Blocca Sì Beh sì E le due spade Che si affrontano Bianca e nero Attorno a un'altra spada E le spade Di 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 Interno Uh Orgoglio bianco Passione nera E le due lame Si scontrano Si Così veloce Dopo che ha fatto Quel senke La sua velocità Continua ad aumentare Ancora E ancora Ma non è ancora Un problema Anch'io posso aumentare Anch'io posso andare Più veloce Si Però A momenti Ti lascia via Ti tira via Un occhio E gli cava il collo Dopo te lo dico Pier Per me è semplicistica Molto semplicina Come spada Qualcosa non va I tuoi movimenti Sono diventati lenti Quello sakichigo Davvero Dal mio punto di vista È la tua spada Molto lenta Come se non mi avesse fatto Come se non si muovesse affatto Pam Muoviti Muo attaccata Sto cazzo Bella Così Bella E gli pianta Praticamente Una lama Su un piede Non si muove più Tecnica distruttiva Sei al limite Sei stato bravo Ad arrivare così lontano Scoffiggendo Alcuni capitani nel percorso Poi Dopo aver resistito Ai danni di Senbonzakura Sei stato capace Di continuare a combattere Ma adesso devi sentirlo Non importa quanto ti sforzi La tua pelle E le tue ossa Non ti rispondono Questa è la fine È finita Con lo sacchicigo Muoviti 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 Sbrigati Muoviti Muoviti Sono venuto qui Per vincere Non ha senso Solo sopravvivere E non ha senso Solo combattere Se non vinco Non cambierà niente Io devo vincere Io voglio vincere Idiota Te l'ho detto Se muori Anch'io Sarò nei guai Com'è possibile? Chi sei tu? Chi sono io? Sì, sì, sì Cioè il livello di Yakuya è Ampiamente Più in alto Di quello di Renji Ma ampiamente Io Non ho un nome Oh Oh Fermi un attimo Fermi un attimo Questa È una novità grossona Questa è una novità grossona Cioè Gli sta rispuntando La maschera Che poi Gli è sparita Più avanti Ma era praticamente La maschera Di quando si stava Per trasformare In Ollo Perché quella maschera Poi col tempo Era sparita Ma questa fondamentalmente È la maschera Di Di Ichigo Che si sta trasformando In uno Ollo Mentre sta provando A diventare Uno Shinigami Quindi il momento in cui C'è il passaggio Così è figo Oh Bel cambio Tu mi chiedi Chi sono Ma Io non ho Un nome Bello Bello Anche con La slamata Così Cattiva Sei davvero inutile Dopotutto Ichigo Solo per il potere Spirituale Del suo Bankai Hai lasciato tremare Le tue ossa Nel tuo corpo Indolenzito Sei una grossa Disgrazia Guarda attentamente Io ti mostrerò Come usare Correttamente Il Bankai La versione Ollo Sta prendendo Il suo controllo Che è una battuta La versione Ollo Sta prendendo Il suo controllo Si è brutta Getsuga nero Kuroi Getsuga E poi Di fianco E Ed è lì Che arriva Proprio Implacabile Figa Sta roba Oh Il controllo Definitivo Oh Oh Questo potere Spirituale E quella Maschera Sei un Ollo Ah Questo Non hai bisogno Di saperlo Perché presto Tu Va via Uuuu 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 Icigo Che non si lascia Sopraffare Del controllo Di un Ollo Bello Cazzo Lascia Non Intralciarmi Vattene Sei tu Quello Di intralcio Lasciami Continuare A combattere Vinceremo Non lo vedi Cazzo 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 Bastardo Aaaaa 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 Scusa per quello Il mio demone interiore Si è messo tra i piedi Forza Ricominciamo dall'inizio Messo tra i piedi Capisco Combattendo così Non ti importa Quanti danni Tu mi faccia Non è la tua Vera intenzione Vero E sia Trascurerò Quello che è successo Poco fa Nessuno dei due Ha la forza Di resistere Oltre Perciò Finiamola Con il prossimo colpo Ma ok Comunque Posso chiederti Ancora una cosa Perché Non provi a salvare Rukia Se mi sconfiggi Risponderò A questa domanda T Sembonzakura Shuke Akteken Akteken Ok Spada L'imperatore bianco Shuke Spada finale Ok Ci siamo Impressionante Scusa ma Non conosco Un maestoso trucchetto Come quello Zangetsu mi ha insegnato Il Getsuga Show Il Getsuga Tensho Perciò Il massimo Che posso fare È mettere Tutta la mia forza In un unico colpo Arrivo Kukiki Kukiki E poi si dissipa Bello Anzi si dissipa Bello La camera funeraria E qua L'ha aperto Io Non Non Devo Cadere Eh ma Non cade Neanche lui Eh Sangue Sì Decisamente Di buon auspicio Mi avevi chiesto Perché ho supportato L'esecuzione Di Arrucchia Primo Quelli che hanno Infranto la legge Devono essere puniti E quando la punizione È decisa Deve essere portata a termine Sono queste le regole Perché lo dicono Le regole Tu avresti ucciso Anche tua sorella Compassione Per un parente Inutile Che cosa Hai detto Alla luce Delle regole Tutti i sentimenti E le emozioni Non hanno valore Le emozioni Non sono Le emozioni Sono insignificanti Non ne ho mai avute Non ne ho mai avute Sin dall'inizio Il Kukiki È uno delle quattro famiglie nobili Siamo noi A stabilire Il modello comportamentale Di tutti gli Shinigami Se non obbediamo Noi alle regole Chi lo farà? Scusa Ma non ti capisco Anche se fossi stato Nella tua posizione Avrei sicuramente Combattuto quelle regole Capisco ora Il suo nemico Sin dall'inizio Non ero io Sin dall'inizio Ha combattuto Contro tutto Contro le regole La Soul Society Così simile A quell'uomo Così seccante Il cui spirito Era così libero Kurosaki La mia spada La mia spada è stata rotta Dalla libertà del tuo spirito Da ora Io Non inseguirò più Rukia In questa battaglia Sei tu il vincitore Ho vinto Ho vinto Ho vinto Questo Questo non va bene Non riesco a stare In piedi Cazzo Era un po' come me Stamattina Ecco Questa Doveva essere La tavola Che chiudeva il capitolo Ogni tanto Ogni tanto Questo maledetto Sbraca In questa maniera Cioè Chiudere Il capitolo Così Bello Magnifico Poi apri il capitolo Successivo Con tutta la parte Che c'è dopo Perché ho girato la pagina E ho visto L'anticlimax Questo era Perfetto Perfetto Shhh Gag E scusa Kurosaki Stai bene? Ho la testa davvero dura Ma mi spiace Stavo solo provando Ad acchiapparti Inoue-san Mi sembri piuttosto energico Per essere così malmesso Kurosaki Ishida Chan Ganju E tu che diavolo sei? Oh è tutto ok Non è importante Fate come se non ci fossi State tranquilli Che sollievo Non stiamo parla Non stiamo proprio bene Ma Confrontati a te Siamo praticamente illesi Inoue Tu sei ferita Eh? Io? No io sto benissimo Sono stata del tutto inutile Ishida san mi ha protetta E Anche gli altri Shinigami Gli altri Shinigami san mi hanno protetta E Zaraki san mi ha anche portato sulle sue spalle Sulla sua schiena Perciò Io sto bene ma 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 sono sempre stata preoccupata per te Kurosaki-kun Mi dispiace Kurosaki-kun Non sono riuscito a proteggerti Grazie Kurosaki-kun di essere ancora vivo Sono così contenta che tu sia salvo Grazie Inoue In realtà Sì Chuo Centrale Ora qui giù Però non c'è Non si vede il 6 C'è scritto solo 40 Che Che diavolo sta succedendo qui? E Il centro 46 E' stato completamente esterminato Cosa cazzo? No fermi un attimo Cioè Fondamentalmente sono entrati dentro al Parlamento E hanno Seccato tutto quello che era seccabile Ah Che Bella Scena Che bel Climax Oh Bravo Kubo Bravo Kubo Falso Climax E poi vero Climax Bravo Bravo Kubo Bravo Bravo Vediamo Perché sono dei kanji particolarmente complessi Quindi vado a cercarli Col mio dizionario elettronico Se li trova Perché sono complessi Se li trova Perché devo scrivere giusti tratti Infatti il primo non me l'ha trovato Allora 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 Odio questa roba Che due scatole Allora Qua Giscio Anzi Anzi no Scusate Facciamo una roba Molto più becera Visto che non mi trova Il Visto che non mi trova il Cosa Non mi trova il Non mi trova il kanji Qua Ok Cerca Cerca Questo Quindi trovami il kanji Ok Qua Qua Allora Non è italiano Per la madonna È giapponese Facciamo una roba Perché Vediamo cosa mi dice L'intelligenza artificiale Che non lo trova Allora 19 Qua Ormai siamo veramente alla fine Qua Lo scontro Ah bello Bello A colori E bello Perché si vede proprio la lama Che si deforma E si rompe Bello Con uno che Ok Oh Allora Blu E bianco Marroncino E bianco Allora Vediamo Vediamo il secondo Se me lo trovo No L'ho scritto male Qua Uno Due Tre Quattro Così Poi Qua 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 Ok Poi c'è Questo 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 Qua Non me li trova Non me li trova Che due Coglioni Non riesco Micca A A Trovarli Eh Questi Cazzo di Kanji Ma mai Ma mai 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 Ma che due Palle Ma che due Palle Allora Cerca Perché Se non me lo trovi Spiegami Spiegami Cerca Questo Cercami Questo Cercami Questo Allora Wiktionary Perfetto Allora No Non è Questo No Mandarino Tut Tut Vabbè Se neanche L'intelligenza Artificiale Lo riesci a trovare Va bene No No Ma allora La questione Allora Ti faccio vedere Sta cosa Perché Te la devo far vedere A dimensione Grande Allora Il mio dizionario Elettronico Funziona così Cioè Vedete che qua sotto C'è Un Un riquadro Quindi io Con la pennina Devo scrivere Dentro a Questo Riquadro Qua Così Devo scrivere Dentro a Quel riquadro Lì Il problema È che Se Sbaglio L'ordine Dei tratti Se Scrivo i tratti In una maniera Tale che per lui È incomprensibile O In questo Dizionario Non c'è Quel kanji Perché magari È un kanji Un po' Desueto E Un po' Più impegnativo Da trovare O che Non hanno voluto Inserire in questo Dizionario Perché può anche Darsi che Essendo Un dizionario Italiano Giapponese Giapponese Italiano Magari quel kanji Lì Non viene utilizzato E quindi Non lo hanno Inserito Punto Il problema È che Se non lo hanno Inserito Perché non è che Ci trovo Tutti i lemmi Possibili Immaginabili In questo Dizionario Ma perché È proprio il problema Del dizionario Italiano Giapponese Giapponese Italiano Ma neanche Nel dizionario Italiano Inglese Inglese Italiano Riesco a trovarlo Ok E quindi Fa sta roba qua Dopo mi metterò A cercarlo Perché mi fa incazzare Di non riuscire A trovare I kanji Mi fa incazzare Probabilmente Sarà legato Ai partiti Probabilmente Uno sarà Destra L'altro Sinistra Oppure C'è una roba Del genere Allora In questo caso Cosa potrei fare Se io trovo L'immagine Così Senza E Cioè Poi Io Sto utilizzando Questo Ma Adesso Non ce l'ho Qua comodo Però Là dietro Ho Il dizionario Anzi Scusate Vado Vado in nero Accendo la luce E E vado a cercare Il dizionario Arrivo subito Datemi due secondi Eccomi qua Scusate Cambio visuale Qua Allora In questo caso Tiro fuori Il Dizionario Solo Di kanji Che è Grande come Il mio microfono Tolgo Anche questa Perché mi sta Sul cazzo Ok Allora Come funziona Un dizionario Un dizionario Di kanji Vedete Dizionario Di kanji E' esattamente Così Cioè io devo andare a cercare Il kanji E sotto ci sono tutti i vari composti Legati a quel kanji Come si fa a trovare un kanji Bene Vi faccio la spiegazione Andiamo qua Come faccio a trovare il kanji Io prendo esattamente Questo kanji qua Questo kanji qua Ha una parte alta E una parte bassa La parte alta Che è questa Io vado Cioè Può anche essere una parte Scusate Come questo Non è una parte alta Una parte bassa Ha una parte laterale Sinistra Una parte laterale Destra Io in questo momento A momenti Mi vola giù il dizionario E mi rompo Il dizionario Su una gamba Questo ha Lato sinistro Lato destro Bene E scusate Lato alto Lato basso Quindi molto probabilmente Questa parte qua sopra Essendo la parte Di maggiori dimensioni È il radicale Del kanji Quindi Devo contare i tratti Uno Due Tre Quattro Quindi questo è composto Da quattro tratti Quindi io vado a cercare Nei quattro tratti Non c'è Ma come non c'è Mi prendi per il culo Mi vuoi dire che È Una variazione Di un altro Uno Due Tre Quattro E quattro Allora Allora Top Qua Vedete Cioè Uno può andare a cercare Poi magari Il radicale È Nella parte bassa Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici No Questa è la roba che odio Otto Il tovo di Tokyo No Il to di Tokyo Non è Perché poi non si capisce Neanche come andarlo a trovare Altrimenti Perché altrimenti Devo trovare Cioè È È un delirio Perché poi non lo trovo Nei radicali Impazzisco come uno stronzo E non va bene E non va bene Perché ci metto un'ora e mezza Perché mi sono abituato troppo A edizionari elettronici E poi dopo Non li trovo più Forse è questo Forse è 123 No Non è quello Beh vabbè raga Capiamoci Non passo un'ora Attorno al dizionario elettronico Al dizionario normale Di kanji Per cercarli Mi metto a cercarli dopo È uno sbattimento Cioè Cercare un Un kanji Un dizionario elettronico Un dizionario manuale È uno sbattimento Quindi Ci penso dopo Dopo lo Ci guardo E dopo lo metto Perché è veramente una sbatta Ok Ultimo capitolo Con La strage Dietro di me Dietro di te Centro 46 Non 146 Centro 46 Un gruppo formato da 40 saggi E 6 giudici Radunati da ogni parte della Soul Society Essi formano Essi sono l'organismo supremo di governo Se viene commessa un'infrazione Nella Soul Society O nel mondo reale Gli Shinigami sono tutti giudicati qui E se viene deciso Che occorre la forza Per portare a termine il giudizio Lo Mitz Kido Il Kido Shou E il Gotai 13 Vengono convocati E inoltre Quando viene decisa una sentenza Anche ai capitani E' proibito di disobbedire Questo E' il centro 46 Davanti ai miei occhi Il centro 46 Adesso E' sangue E' un leader qua sopra E tutti gli altri Spiacicati malissimo Il sangue si è seccato Al punto Che è diventato nero E si sgretola Quindi Non sono stati uccisi Di recente Ma quando sono stati uccisi No Ok Fermi tutti Non sono stati uccisi Di recente Vuol dire che Ok Grazie mille Asrur Ok Se è nero e si sgrettola Vuol dire che quel sangue lì E' lì da parecchio tempo Si è seccato Quindi non è una roba Di pochi giorni Che siano stati seccati Uh Che siano stati seccati Quando è stata emessa La La condanna di Rukia Perché poi dopo Lo hanno detto Quando hanno detto Che Kucichi Rukia E' stata condannata Era una roba strana Era una roba eccessiva Dicevano Cioè Loro Seguono l'ordine Ma si rendono conto Che questa roba qua E' eccessiva Che non ha veramente un senso E ora si scopre Se sono stati seccati E poi è stata anticipata Esatto Quindi Eeeh Eeeh Tutta questa situazione qua E Ecco Ora si scopre Che è qualcosa Forse anche di provocato Ad arte Aaaaaa Allora Sin da quando Barai è stato sconfitto Ed è stata dichiarata La legge marziale Questa stanza Era in totale Isolamento Nessuno Era autorizzato Nemmeno Ad avvicinarsi Qui Ed oggi Finchè non abbiamo Fatto irruzioni Tutte e tredici Le barricate Erano sigillate Senza segno Di forzatura Questo significa che Sono stati uccisi In precedenza Tutti gli ordini emanati Dopo di ciò Erano falsi Chi li ha uccisi Ichimaru Ma come può aver massacrato Il 146 E tenerlo segreto Fino ad ora Possibile abbia fatto Tutto da solo O ci sono altri Che lo aiutano Aizen Cazzo Aizen E' morto Come una salama Da sugo Spiacicata Nel Spiacicata Attorno al muro Come le zanzare E doveva essere Il capitano più forte Dai 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 E E Muore troppo Stupidamente E viene esaltato Troppo Per Non essere Perci dietro Qualcosa di strano Dai Dai Raga Dai Cioè Dai Kira I Esatto Kira Che è il bastardo Che gira dietro a Che gira con Ichimaru Sei stato tu A fare questo Andiamo Mazzumoto Ok Fermati Kira Rispondimi Quello che ha eliminato Il centro 46 Sei tu No Sono arrivato poco prima di lei Capitano Izzugaia Qualcuno mi ha aperto Dall'interno E mi ha lasciato entrare Ti hanno lasciato entrare Chi Non è ovvio Il centro 46 Mi stai Mi stai prendendo in giro Non è questa la cosa importante Capitano Izzugaia Non ha cose più importanti da fare Piuttosto che inseguirmi Piuttosto Dovrebbe proteggere Inamori Di cosa stai parlando Inamori è Lei non è più Nell'ufficio Nell'ufficio Della decima brigata Eh Cosa Capitano Izzugaia Lei ha creato una barriera Intorno alla stanza Dove Inamori Sta dormendo Il Kyomon È una tecnica di alto livello Che rispinge Tutti gli attacchi Dall'esterno È per questo Che sentiva Che Inamori Fosse al sicuro Ma quella barriera È piuttosto semplice Da infrangere dall'interno Inamori è una maestra Nel Kido Infrangere la barriera È stato semplice Per lei E ha creato Un'altra barriera Intorno a sé E si è spostata Mentre celava Completamente La sua energia spirituale Non l'ha notato Inamori L'ha seguita Per tutto questo tempo Capitano Matsumoto Posso lasciarlo a te Vada pure Che c'è Stanco di correre Il mio lavoro È quello di trattenerti Qui Matsumoto-san Il tuo lavoro Chi ti ha dato Quest'ordine Gin Non c'è bisogno Di risponderne Sì Ce n'è No Non ce n'è Ti comporti stranamente Non so cosa Gin ti abbia detto Ma È abbastanza Io non ho bisogno Di rispondere A qualcuno Che sta per morire Chi era tu Mostra la tua faccia Wabiske Come ho fatto A non notarlo Inamori Crede ancora Che io abbia ucciso Aizen Sicuramente Lei mi seguirebbe Ovunque Ma non pensavo Fosse capace Di muoversi Così presto L'ho sottovalutata Inamori È il tipo di persona Che continuerebbe A muoversi Anche se è immobilizzata Se è per Aizen Io avrei dovuto Saperlo meglio Di tutti Ma Hinamori Cosa Cos'è questo I membri del Centro Quarantasei Sono Morti Tutti quanti Hizugaya-kun Era scioccato E Anche Kira-kun Era qui E Hizugaya-kun L'ha inseguito Cosa significa Questo Se Hizugaya-kun Ha ucciso Aizen Allora Questo significa Che è stato lui A fare anche questo O è stato Kira-kun E allora Hizugaya-kun E il capitano Aizen Allora Ah A me no È cosa È Gin Cioè Una è Hinamori E questo È Hizuga È Ichimaru Vabbè Vabbè Benvenuta Hinamori-chan Ah Sì Effettivamente Sì Cioè Viso proprio Da cattivo Ma cattivo 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 C'è Ok C'è proprio Fatto apposta Per Sì sì Finisce così I due Che si scontrano Lei che viene lasciata su I due che iniziano Per massacrarsi Tac Chiuso Irashai Hinamori-chan Da quanto tempo No Non è Perché Quella è Sashiburi Irashai Benvenuta Hinamori-chan Bello 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 Però Mi lascia Sempre Quel Ne voglio di più Cioè Eh sì Live normale Qua Scusate Eccomi qua Eeeh Bel volume Bel volume Rapido Devo dire Fin troppo rapido Fin troppo veloce Godibilissimo Oh Oramai Siamo arrivati alla fine Raga Cioè Capiamoci Nel momento in cui Eeeh Ichigo Ha sconfitto Ha sconfitto Byakuya Adesso si deve scatenare L'inferno Nel senso che Dobbiamo vedere Lo scontro Tra Il maestro E i due allievi Adesso non mi ricordo I nomi dei due Dei tre personaggi A questo punto Itsugaya E Ichimaru E dovremo scoprire Che Aizen È vivo Cioè Sono le uniche cose Che sono rimaste Ragazzi Cioè E scoprire Perché 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 Eeeh Ichimaru E Ochi per lui Ha deciso Di seccare I I 46 Del centro 46 Perché questo punto È questo Troppo sospetto Le tempistiche Troppo sospetto Il Troppo sospetto Tutto Quindi Oramai siamo arrivati A un punto In cui Siamo alla fine Perché A questo punto Siamo veramente Alla fine Cioè C'è veramente Poca roba Che si deve scatenare Ancora Nella Social Society Eeeh Sì 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 Però Allora La questione maschera Eeeh Devo essere sincero La questione maschera Il fatto che Ichigo Eeeh Si stava trasformando In un ollo Quindi Comunque Stava Cioè Non è che È diventato Subito In maniera pulita Uno Shinigami Eeeh Stava iniziando A trasformarsi In ollo Poi ha avuto Un momento Di stasi Di dominio Di sé E Si è strappato La maschera Ed è rimasto Umano O meglio Rimasto Shinigami Quindi Bene o male Questa roba qua Sarà tipo una sorta Di contaminazione Cioè lui che Comunque È entrato Nel mondo Degli hollo Gli hollo L'hanno In un certo Qual modo Infettato E quindi Ha questa sorta Di Lato oscuro Legato Agli hollo Che quando si scatena Prende il comando E Fa a pezzi Tutto Perché l'impressione È questa Cioè questa Si Si forma La maschera E Lui inizia a dire Cioè Adesso mi scateno Adesso ci penso Io a te E uccido tutto Quello che mi capita Tiro Quindi Però non è una Di quelle cose Che mi aspetto Di vedere E di scoprire In questa saga È quel Classico Hint Buttato Lì Per dirti La vedi questa roba Eh Ti 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 Tientela segnata Perché nelle prossime saghe Ti facciamo vedere Cos'è Ti facciamo capire Cos'è Adesso La carne al fuoco C'è già tutta Ti abbiamo già fatto vedere Tutto il possibile Porta pazienza Cioè l'impressione È questa Cioè Intanto Hai già visto Della roba interessante Cioè Prossimo volume Volume 20 È un terzo Poco meno Di un terzo Della serie intera Perché Cioè Sono 74 Volumi 74 volumi Quindi In un modo Nell'altro Qualche potenziamento Qualche roba interessante La devi lasciare Perché la devi assolutamente Lasciare Però Non puoi neanche Pensare Cioè Qualcosa di potente La devi fare Ma non puoi neanche Pensare Che dopo 20 volumi Scateni tutto E dici Ah ok Ho fatto vedere tutto Perché hai molte altre cose Da far vedere Quindi Chiaro così Mi va bene Adesso Adesso Voglio solo avere La certezza Che hai Zenevivo E non è stato Spiacicato Come una merda Attorno al muro Perché È l'unica cosa Che mi interessa Perché è lui Il cattivo Dai raga Dai Cioè Entra Lo presentano Troppo bene Per farlo schiattare Troppo male Con delle situazioni Troppo strane Attorno Troppo Troppo Cioè Il troppo buono Quello che tutti Idolatrano Quello che è Fuori dagli schemi Per la sua bontà In un mondo dove I Gli Shinigami E i capitani Degli Shinigami Sono tutto Forché Dei personaggi Bianchi Tutto Tutto Perché anche Itsugaya Che è quello Carino Gentile Ha una parte Oscura Ok È irascibile L'abbiamo visto Che è irascibile Biakuri è un Freddo Pezzo di merda E Ichimaru È un altro Bastardo E Che Che Fondamentalmente Gli piace Gli piace Il sangue Quindi abbiamo visto Da tutti Che sono Tutti dei Bastardi Sono tutti Dei bastardi Oscuri Eh però Se sono tutti Dei bastardi Oscuri Tu mi fai vedere Aizen Come Quello Bianco Quello Divino Quello che È Là sopra E poi Schiatta male No raga Dai No 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 E poi Scrive La lettera Dicendo Tutte Cazzate No raga Dai No 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 Non me la raccontate Potete continuare a dirmi la storia del Ah ma è morto Povero Rai Zenuccio No raga Questo Questo è cattivo Bastardo Per eccellenza Allora Detto questo Io Vi saluto Vi ringrazio per Il Avermi fatto compagnia Questo pomeriggio Vi lascio andare Anche perché Alle 18 E 15 Di là Su Youtube C'è il re Con Luli E E credo anche con Cenere Comunque sicuramente Con Luli Con E Come si chiama il programma Che fa con Luli Oltre allo specchio Esatto E vanno avanti con il volume 86 Quindi Io vi saluto Mi butto sul divano E vado a vedere le Olimpiadi Ciao belli Grazie a tutti